80 è un podcast Potevi passare da mangiare l'hamburger o fare una rapina 80 è un podcast In realtà si chiama 80, però noi parliamo dei palinari Quindi che cazzo diciamo? Cioè nel senso gli anni 80 visti da due palinari Sono passati d'altronde quattro decenni Amo, ma chi sono questi due boomer? Ramon Verdoia E invece io sono Matt Ma dove li hai trovati? Al pensionato dei Puddu Ho aperto l'armadio e dalla naftalina sono usciti fuori sti due Mi han detto, well boys, well boys Facciamo un podcast sui palinari Un talk Eh, mica ho potuto dire di no, avevo paura Metti che ragiscono 80 è un podcast semiserio Non è andata esattamente come tutti pensano La storia dei palinari Cazzo mi sono seduto E diceva che cazzo è Metto la mano sotto il culo e tiro fuori era un M12 Oh ma mi fate parlare? Mi fate dire sta sigla? In 80 ti parleremo della nascita dei paninari Del ritorno, delle storie oscure Delle moto, dei film Di suor metalla E della musica Every body sky Every body sky In questo sfumeggiante podcast vi racconteremo la storia E l'evoluzione dei fumetti dedicati al movimento Qual è stata l'evoluzione del look paninare Sfatteremo le verità oscure del paninaresimo E soprattutto non mancheranno i look giusti E l'attrezzatura galla per un outfit davvero i manici Eh ma così è un po' too much Istituto Puddu, sono Suor Metalla Chi è l'apparecchio? Sì buongiorno sorella, sono quello dei due Puddu Quelli che sono scappati Ah è ancora lei figliolo? Qui sparano troppe cavolate Bisogna aumentare la dose di fosfora E si scaldano quando le dicono Ci credono pure Senta Maranza Lei la deve smettere di rompermi i coglioni 80 è un podcast semiserio sugli anni 80 Vissuti e raccontati da due paninai E andiamo!